Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Lavori di sostituzione dei binari a piazzale Labicano. Sino a sabato le linee trambiarie 2, 3, 5, 14 e 19 sono sostituite integralmente da bus. Da ricordare che sempre per lavori anche la linea 8 viaggia con bus lungo tutto il percorso. Le altre notizie. Il Campidoglio ha prorogato sino al 31 di ottobre le limitazioni già in atto nella fascia verde. Resta quindi lo stop dal lunedì al sabato 24 ore su 24 per gli autoveicoli a benzina sino a Euro 2 e per quelli diesel fino a Euro 3. Divieto anche per ciclomotori e motoveicoli sia benzina che diesel Euro 0 ed Euro 1. Le deroghe sono nell'ordinanza pubblicata sul sito del Comune.